buongiorno a tutti amici colleghi pazienti alessio redelli milano italia oggi vorrei presentarvi uno dei miei più famosi libri nessuno penso possa controbattere il fatto che io sia stato uno dei pionieri nella cosiddetta rinoplastica medica la ristrutturazione del profilo nasale mediante tecniche completamente mediche filler e tossina botulinica io ho scritto questo libro ormai qualche anno fa con l'amico frederick braccini la rinoplastica medica principi e pratica clinica si tratta di un libro pratico come uso nei miei libri pubblicato dalla officina editoriale oltrarno di firenze dove io praticamente faccio un una disamina accurata della parte anatomica con numerose fotografie che come sempre permetteranno ai lettori di eseguire le tecniche dal giorno dopo c'è uno studio del paziente molto accurato le tecniche con la descrizione della preparazione e degli utilizzi un libro quindi che può essere di utilità pratica tutti i medici estetici ma anche i chirurghi plastici considerando che la rinoplastica medica è una tecnica anche post chirurgica molto indicata in moltissimi casi post chirurgici e quindi un libro di facile utilizzo di facile lettura vi ringrazio molto per essere stati con me vi ricordo di seguirmi sul mio sito youtube Alessio Redaelli sul mio sito internet www.docredaelli.com e se volete acquistare i libri su medicalesthetic.it che si occupa di questo e che ve li può mandare immediatamente grazie molte ciao ciao